C per TV benvenuti siamo sempre a CrossFit Bilizio oggi è venerdì 14 settembre 2018 siamo diciamo finalmente alla fine della settimana ma non possiamo dirla conclusa prima di aver illustrato la classe di oggi che comincia con 5 minuti sulla salt bike una pace medio quindi diciamo sui 58 60 rpm può essere l'ideale seguito poi da pigeon pose la posa del piccione 2 minuti per lato il sunsun stretch che dovreste conoscere ma come sempre se non vi ricordate gli esercizi qui sotto ci sono tutti i link a youtube poi abbiamo il bretzel che abbiamo già visto la scorsa settimana ottimo soprattutto per quanto riguarda l'apertura dei fianchi e per concludere 10 squat facing wall quindi vi mettete in fronte al muro con le mani alzate e vi fate 10 squat molto ma molto lentamente tutto questo è propedeutico al lavoro che arriva subito dopo ovvero costruire un set molto pesante di tre ripetizioni di overhead squat dove però teniamo l'eccentrica per almeno cinque secondi quindi molto lentamente scendiamo e quando siamo in buca accettiamo almeno per due secondi quindi oltre al discorso overhead squat anche il discorso tempo di esecuzione per chiudere la classe di oggi un simpatico world composto da 21 15 9 cosa power clean overhead squat pull up chest bar per quanto riguarda i pesi molto semplicemente gli advance 60 kg gli uomini 40 kg le donne gli intermediate 50 kg gli uomini 35 le donne e i beginners 30 kg gli uomini 20 kg le donne è tutto anche per questa settimana ci vediamo la prossima settimana buon weekend a non dimenticate domani l'intervista con lo scoprirete domani ciao